Ok, she's hot, she's hot, she's hot, everything I'm hot, and I don't want to go. Siamo sempre una nazione operosa e audaci, e a volte ci piace avventurarci fuori dall'Italia. In tali casi è necessario di sempre benutati per assicurare la sicurezza dell'auto. Dobbiamo solo prendersi cura della nostra gesta, assicurarci che le nostre famiglie fossero felici e con la pancia piena. Siamo sempre a un'azione operosa e audaci, e a volte ci piace avventurarci fuori dall'Italia. In tali casi è necessario di assicurarci l'auto. Siamo sempre a un'azione operosa. Graveyard. Grazie. 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 Cosa è qui? Non posso trovare qualcosa di più. Ho spero che non sono troppo tardi. Tu devi essere l'angelo. Dobbiamo parlare. Il S.O.E. Sniper. Grazie di voi con noi. Ci salviamo. Il S.O.E. S.O.E. nella, che cerco. S.O.E. 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 Grazie a tutti.